Vedrai che questo è il conculino nuovo, speriamo sia un bel nazionotto. Ciao, sei tu che cerco il nuovo conculino? Si, sei io che cerco il nuovo conculino, piacere Gian Ross? Piacere Pino. Ma date che squadra sepi? Eh, laziale, mi sa che... No, 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 ti ricco qua, ma che sa di che... Ma ci mancherebbe altro! Ma sfatiamo questi miti che i romanisti e i laziali devono litigà per forza, siamo tutti i tifosi. Posso, basta, si accomodare, no, qua ci sto io. Grazie Pino. Senti poi, insomma... Insomma niente, come fai, sono contento che... Perché ho parlato qualche ragazzo... Ma guarda, mi cercavo un conculino solo della Lazio, io proprio quello, non l'ho messo nell'annuncio perché poi sembra un po' discriminatorio, ma io cerco proprio un conculino della Lazio. Senti che è vero quasi quello... Lì, grazie, grazie, grazie. Ah, Pino. Grandissimo. E ti dicevo che proprio era quello che cercavo, quello che volevo, anche perché, insomma, lo voglio compiere un po' diverso. Ho avuto solo romanisti e ti dirò che me lo metti a posto. Un po' però affitto, spese condominali. Poi guardiamo e vediamo. Adesso conosciamoci noi. Senti, ma... Anche questo? Eh, c'era un melone che ho lasciato io. Scusa, se me lo metti dentro. E niente, insomma, ti dicevo che cercavo questo, ma scusa... La maleducazione, c'è stato veramente maleducato, ma... Un caffè, c'è qualcosa qua, ma... Eh, dai, me lo metti in una tazzina. Faccio io lì. Sì, sì, non ti preoccupare. Senti, esistono pure un po' qua che... Guarda che sei bravissimo, sei. Sì, ma grazie. Ma che gentile ho. E poi dicono, grazie, sono gentili, ma sono gentilissimi. Hai visto sì? Sono proprio fatti su altri. Arrivo, eh? Parete fatti per le faccende di casa. Poi la prende pure per me quella. No, Pino, non ti preoccupare. Guarda, io direi che... È perfetto, mi può abbassare. Ah, come vuoi dire? No, no, che stai scherzando. Guarda, sei stato veramente bravissimo. Ti accompagno. È stato gentile, gentile, gentile. Ti faccio sapere. Guarda che sto controllando due, tre. Ci risentiamo? Guarda, sono deciso da te una sola. Ti faccio sapere. Ci risentiamo. Non ti preoccupare. Ciao, Pinuccio. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah, perfetto. E ora mi bevo pure il caffettino fatto da Laziale. Perché Laziale ha già rosse gli spicciano casa.